Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Porco Dio! Mamma mia! E quando sono stato bannato, a Giuda a rispondere a tutta la gente che mi diceva Ah, godo! Ti hanno bannato per questo! Ah, godo, godo, godo! A gente che mi inaugurava la morte, questo e quell'altro. Pure questo mi ha giudato a subire, pure questo mi sono dovuto subire. E questo voi non lo sapete, perché sono cose che succedono fuori, alla live. Stai fallendo, godo, pezzo di merda! Questo e quell'altro. Allora, domani vogliamo fare questa ricetta qua? Ragazzi, che dite? Vogliamo fare questa? Vi piace domani? Bella ricetta, vogliamo fare questa? Allora, io ci provo, ok? Io ci provo, ma non vi assicuro come viene, ok? Quindi domani faccio anche il tapirulano, quindi domani mangeremo questo. E ci sta, perché poi brucio mille calorie domani sul tapirulano. Mille calorie. Mi posso mangiare qualcosina? No, 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 è sempre lo spito. Ma mamma mia, ho visto la tua foto, sei troppo bello. Si spompinei. Si spompinei. Che che sta? Sto vedendo che alcuni aggiungono origine a schimba. Benvenuto. 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 Non puterà. Benvenuto. 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 Peccottesia. io sono un cane it's probably the most antique one e questo è quell'altro la live è diventata solo una lamentela sta live è diventata ormai una lamentela del cazzo che entrate, dite la vostra ah, 337 persone live, mamma mia ecco lo sta fallendo fammi chiedere perché se è così così si nervosisce, così in guai la live, così ormai è così, godo nel fallimento altrui e vai giù, che vi devo fare? Qualcosa devo fare nella vita, io devo campare anch'io e qualcosa farò, noi vediamo passaggio intercettato, palla recuperata se ognuno che viene, viene e fa così e arriva e dice la sua niente, invece un supporto, questo e quell'altro alimentate, 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 alimentate questa cosa, fatemi fatemi pesare che c'ho poche persone rispetto agli altri streamer fatemelo pesare ancora, vai già sto meglio Sanduccio vuole gustarti Sanduccio non ti preoccupare che nel B&B, letto matrimoniale io e te saremo capito? ma voglio non facci di scime che parole dì, piccola che stu dì ahhh 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 bel le scorreggie sono naturali è la vita che me lo permette di fare le scorreggie calmiamoci costa mille euro calmiamoci allora stavo dicendo eeeh volevo dire quindi che è successo io stavo in questo locale a Milano non mi ricordo dove dove RACO dove dico si sparava si sparava i laser come si chiama il coso i laser game c'è che è successo che è successo secondo me secondo me questa qua secondo me è una ricetta che si può fare niente forno niente lievito chiunque ha la patata in casa può farlo ma cazzo mi mancava la patata babbo capite vieni ragazzo non fa niente non fa niente porta la patata ma capite no porco mi ha fatto flashare babbo che stavo segnale no 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 non abbiamo visto niente le persone non vi possono giudicare vi mettete vi mettete un jeans bel perché così uno può dire wow che bello jeans vi mettete una maglietta bella per dire azze è bella sta maglietta è proprio bella fate il fisico ma non per le ragazze per gli altri che diranno wow che bello fisico che ha fatto che bello fisico che ha fatto che stackellato ma alla fine la bucchiac non interesso fisico interesso cazzo è scassato cazzo combà ma ne ha faticà vattene non so cosa era successo prima eh allora vedi qua ci sta chi sta questo problema qua mamma mia che paura ma chi è ma chi è signorita madonna mia che paura come si chiama lei io mi chiamo Giovanna Siciliano salve ah Giovanna Siciliano si sono io ah piacere salve chi sei tutto c'è il signore chi è non io mi chiamo Gennaro Goliardico ah salve il signore è qua se ti l'avessi un attimo una manichina ah ho capito ho capito ma 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 ci sto credendo che Giovanna Siciliano io pensavo ero una ragazza ma che sei tutti scemi no sono Giovanna Giovanna Siciliano si 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 io conoscevo uno siciliano non lo so si no io Gianni Siciliano conoscivo mio fratello che il grande corno su chi chi non si si che l'uomo è merda spork bastarda la grande lota che il grande spork c'è pigli arrecchie di cittaglia Piano piano avversare il borro come la cartella de porno se visto cosa in che senso non è vero non ce l'ho a parte che non ce l'ho